Io sono originario di Venezia, i miei erano, abitavano la, lavoravano la e sono nato la. Dopo dieci anni sono andato nella bassa, sono arrivato alla bassa veronese a Sorgà, e lì vuoi la passione del papà e la mamma che a casa invitavano sempre amici, facendo da mangiare cose particolari, ho iniziato il percorso della scuola alberghiera a Bardolino e mi sono innamorato del lago di Garda. Del lago di Garda ci si innamora perché mette tranquillità, secondo me non è come il mare che l'onda ti agita, il lago proprio ti trasmette una pace, il chietto vivere. I sapori sono infiniti qua, perché possiamo partire dall'olio, che siamo nella parte più a nord del mondo dove si produce, a un'acidità bassissima, al vino, pesce di lago, i formaggi che ci sono da noi, c'è veramente di tutto, trovi tutto. Il lago di Garda è unico perché ha le montagne che lo dominano, che lo sovrastano, che gli danno quella... se abiti qua hai quella sicurezza che sei protetto come dagli effetti atmosferici. Poi soprattutto Garda, che è stata dominata per quattro lustri dai veneziani, ha portato cultura, ha portato lo stesso... usare le sarde e metterle in saor, tante cose. So, ho letto, che addirittura qua arriva, finisce, ma parte da Venezia, il Vinessa, che è un vento che si intruffola nelle varie valli per arrivare qua e finisce qua a Garda, nell'audito. Sono un figlio del Vinessa. Grazie.